Proseguono gli appuntamenti per la presentazione dell'ultimo libro del Vescovo della Diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e di Foligno, Monsignor Domenico Sorrentino, intitolato Economia umana, la lezione e la profezia di Giuseppe Toniolo, una rilettura sistematica, edito da Vita e Pensiero. Dopo Foligno, Napoli e Roma e Pieve di Soligo, il primo aprile si è svolta la presentazione a Perugia seguita da quella del 2 aprile a Napoli. Considero il pensiero del Beato Toniolo una profezia. Di lui, dice il Vescovo, mi sono occupato da molti anni. Sempre mi sono augurato che qualche economista prendesse l'iniziativa di ripresentarne adeguatamente il pensiero economico, al di là di studi specifici e accademici. Nel libro indico con chiarezza gli aspetti superati del pensiero tonioliano, le foglie ingiallite se lo paragoniamo ad un albero. Ma metto in evidenza, proseguendo nella metafora, anche le moltissime foglie verdi, il tronco vitale, i frutti ancora da gustare.